Questa mattina per colazione mi sono fatta un pochino di frutta, l'uva e un caco tagliato a pezzi e due fettine di torta, quella lì che aveva fatto Federica, il ciambellone con il cioccolato e la zucca. Qui ho la zuppa che è rimasta ieri sera, è diventata una crema, raffreddandosi si è rappresa e la zucca e le patate hanno dato questa consistenza molto cremosa. Comunque ci andrò a mettere poi un pochino di brodo che ho già pronto e ovviamente la pasta che io ho già buttato nell'acqua bollente e sto facendo cuocere. Ho messo tutto insieme in una bella pentola, quindi la zuppa, la pasta, un goccino di brodo, come vi dicevo ho anche aggiustato un po' di sale, ho aggiunto un goccino di olio e adesso faccio giusto scaldare un pochino. Ed ecco qui la zuppa con gli spaghettini pronta, in un attimo. Merenda, poco prima di andare in piscina e in palestra, ho fatto un frullato con latte di riso e soia, quelli che ce l'hanno mescolato insieme, una pera e un pochino della polvere di Natural Mojo, il Fit Vanilla. E ve lo straconsiglio, ma anche senza questa polvere o altre cose all'interno, semplicemente latte e frutta è squisito. Vado a mettere in un bel bicchiere, ho il boccale del frullatore ad immersione, la pera che vado a sbucciare. Andiamo a mettere adesso un pochino del Fit Vanilla. Io l'ho già aperto, però ancora non l'ho provato, quindi non so com'è di sapore. Il profumo è molto dolce, molto vaniglioso, appunto. E io non esagero, ne vado a mettere un cucchiaino bello colmo. E aggiungiamo il latte. Questo è il latte di riso, in questo caso in realtà è riso e soia mescolati insieme. E il nostro frullato alla pera è pronto. Uh, preciso, preciso con il bicchiere, bicchiere nuovo. Allora, assaggiato è buonissimo. Mi piace tanto tanto perché è dolce e il latte di riso è comunque già di suo abbastanza dolce. Anche questo, come vi dicevo all'inizio, ha un sapore dolce, poi la pera è dolce di natura, quindi non ha bisogno assolutamente di altri zuccheri, altri dolcificanti all'interno. È molto, molto delicato. Era buonissimo. Finito. In un secondo. Uffa. Per cena ho deciso di preparare un couscous con le lenticchie, i broccoli e un pochino di frittata. Mi piace tantissimo questo piatto perché si presta molto bene per essere preparato in anticipo. Infatti io lo cuocio ora e poi quando torno dalla piscina questa sera ho la cena già pronta. Questo è anche un ottimo piatto per essere portato ad esempio il giorno dopo a lavoro. Infatti si mantiene benissimo e potete condirlo con qualsiasi cosa. Intanto qui ho messo i miei broccoletti tagliati piccolini, aggiungo un po' di acqua, copriamo e cuociamo al microonde qualche minuto. Intanto in una ciotola ho aggiunto un po' di lenticchie che avevo già cotte. Qua ho il mio couscous che intanto si è precotto, diciamo si è idratato, ecco non mi veniva il termine, e al quale avevo aggiunto un goccino di olio, circa un cucchiaino e ovviamente un po' di sale. Adesso andrò a mescolare le due cose e completerò poi con i broccoli. Qua ci sono i broccoletti, io ho aggiunto anche un pochino di frittatina sotto le lenticchie e il couscous e ho insaporito bene con tante spezie, ho messo la curcuma, un po' di paprika, pepe, un pizzichino di aglio in polvere, sale, insomma ci ho dato giù per renderlo proprio bello appetitoso e un pochino di olio. Anche questa giornata si è conclusa, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, come al solito mettete un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!